Allora, siamo qui al parco perché oggi nasce di nuovo il movimento reggbistico termolese, i Molise Dolphin Rugby che già avevano iniziato lo scorso anno e adesso quest'anno una nuova stagione. Con noi un tecnico, Mirko Vincenzi, che è allenatore tecnico FIR, Federazione Italiana Rugby, che dovrebbe essere. Tanti ragazzini, quest'anno forse molto più dell'anno scorso. Quest'anno sembra che il movimento sia cresciuto di più rispetto all'anno scorso, anche grazie a della pubblicità, anche al passaparola con i genitori. Quest'anno siamo riusciti un po' a crescere, però si sa, un cammino va fatto sempre un passo dietro l'altro. Senti Mirko, ma adesso vedo che sono tutti ragazzini che comunque sono le prime armi, diciamo quasi all'asciutto delle nozioni che possono essere e tu sei qui apposta per questo. Ma qualcosa di più concreto c'è già con voi? Noi collaboriamo insieme agli Ammers Campobasso e insieme alla Tetras Rugby di San Salvo, appunto perché molte volte magari succede che non si può raggiungere il numero necessario per fargli giocare e quant'altro, allora queste collaborazioni vengono appunto per poter far crescere in movimento, semplicemente. Quindi va bene, è già un buon inizio questo insomma, visto che... Sì, certo. A me ci hanno aperto le porte le altre società già in attivo sul territorio e noi dobbiamo semplicemente collaborare. Io Mirko, questo te lo dico, scommetto che il, diciamo, il crucio più importante, il neo più importante forse è proprio una mancanza di strutture per poter fare al meglio questa cosa, visto che siete venuti qui al parco, che non è certamente, magari per le prime nozioni va benissimo, però non certamente si può insegnare rugby qui al parco comunale, sotto questo punto di vista. Eh, purtroppo sì, giustamente è un movimento che in Molise è nato da poco a Campobasso, ma nemmeno lì, soltanto adesso hanno cominciato ad avere qualche struttura, qui ci vorrà ancora più tempo rispetto a loro, però magari col tempo, vedendo che comunque la situazione cresce, questo sport cresce, magari qualcuno si accorge di noi. Però, appunto, dico, se mai nessuno si muove, non succede mai niente, almeno qualcuno. Ci muoviamo noi. Già muovendosi può essere. Ci muoviamo noi, iniziamo a muoverci noi, appena qualcuno ci noterà, speriamo. Bene, noi con simpatia vi seguiremo, teneteci al corrente di quello che accadrà per il Molise Dolphin Rugby, del delfino che è una cosa che ormai nel nostro paese ricorre sempre, visto che siamo in un paese di mare, giustamente. E allora, bene, Mirko, io come redazione sportiva di Termone Online vi facciamo i migliori in bocca al lupo per un inizio di stagione e carico di successi, perché visto la vostra buona volontà ve li meritate anche. Noi ci proviamo sempre e speriamo che vada tutto quanto bene.